Ciao, sono Riccardo Tornine, sono in Sabina, appoggio Milteto per presentarti questa villa con locale ristorante e due ettari di terreno. Ma tu, la vuoi una casa? Al piano terra abbiamo il locale ristorante di circa 140 metri quadrati, mentre al piano superiore abbiamo l'abitazione, sempre circa 140 metri quadrati, al piano seminterrato un locale per circa 40 metri quadrati. Il piano ristorante si divide in due ampi sale, una grande cucina ed il locale bagno antibagno. L'abitazione è invece composta da un salone con cammino e un terrazzino, una cucina con tinello, tre camere da letto di cui una con bagno interno, ingresso, corridoio e ampio bagno. Nel seminterrato abbiamo i locali tecnici con pompa, autoclave e caldaia. Sul terreno ci sono piante d'ulivo e grandi querce, oltre un ampio parcheggio per il ristorante e uno spazio per banchetti, più un pozzo artesiano e un'area barbecue. Il restante terreno è seminativo. Se pensi che il tuo business possa essere a contatto con la natura, questa è l'occasione giusta per te. Ma tu, la vuoi una casa?